benvenuti su esperuchannel oggi vediamo come creare dei semplici sottotitoli su un video con premiere pro per creare dei sottotitoli dobbiamo creare una entità sottotitoli direttamente nel progetto quindi cliccando nella finestra di progetto tasto destro nuovo elemento scegliamo sottotitoli codificati i sottotitoli codificati sono in una dimensione un formato e poi ci chiederà in che standard vanno realizzati i sottotitoli i vari standard sono importanti sia per la gestione della messa in onda sia per l'eventuale esportazione dei sottotitoli come file collegato e parallelo ai video che può essere abilitato o disabilitato nel caso di quicktime nel caso di dvd blu ray e file che supportano sottotitoli scegliamo uno degli standard e a questo punto lui ha creato il file dei sottotitoli che trascinato sulla timeline sarà un file vuoto facendo doppio click su questo elemento appare la finestra dei sottotitoli la finestra ci permette di inserire attacco e stacco quindi dove inizia e dove finisce il sottotitolo mettiamo qua primo sottotitolo quindi ciò che noi vogliamo inserire come testo che apparirà sulla finestra direttamente qua nella finestra program di default lui non fa vedere i sottotitoli quindi dobbiamo abilitare i sottotitoli e dobbiamo abilitare di visualizzare il formato corretto dei sottotitoli perché noi potremmo avere contemporaneamente più formati noi abbiamo scelto prima il sia 608 e adesso appare il sottotitolo cliccando sul sottotitolo creato noi possiamo cambiare la durata quindi dove entra diciamo che entra a un secondo ed esce a quattro secondi decidiamo che questo sottotitolo dovrà essere centrato rispetto a eventuali elementi quindi posso decidere se questi elementi potranno essere orientati a bandiera centrati e deciderò la sua posizione utilizzando questo valore da qui posso scegliere se il cursivo sottolineato posso decidere se il formato dovrà avere un colore particolare se dovrà avere o no un colore di sfondo particolare e se dovrà essere semi trasparente trasparente oppure opaco e quindi a seconda di quello che sceglierò a seconda del colore che andrò a scegliere avrò effetti diversi e quindi a seconda del sottotitolo potrò scegliere rese differenti normalmente è preferibile restare sullo standard cioè fondo uniforme nero semi trasparente il sottotitolo non è allungabile da qua perché è un elemento che può essere allungato esclusivamente dalla parte del pannello dei sottotitoli se io voglio allungarlo devo cambiare l'uscita quindi lo stacco quindi dovrò vedere direttamente sulla timeline dove voglio far uscire l'elemento vedrò qui dove sono nella timeline quindi 3 e 10 e modificherò lo stacco voglio inserire un nuovo sottotitolo a quel punto vado su più crea un nuovo sottotitolo a questo punto decido di farlo uscire a 14 e quando darò l'ok vedrete che si allungherà la traccia del sottotitolo perché io potrò portarlo fino a 14 col secondo sottotitolo nel momento in cui creo i vari sottotitoli posso selezionare il singolo sottotitolo andare a modificare a posteriori il titolo e quindi gestirmi in maniera comoda e veloce i vari sottotitoli ogni sottotitolo può essere a comparsa quindi in alternanza da un sottotitolo all'altro si alternano oppure possono essere selezionando il sottotitolo a scorrimento quando ci sono più righe oppure a disegno quindi che il secondo sottotitolo non apparirà in un colpo solo ma verrà disegnato poche lettere alla volta se volete scoprire di più venite a trovarci sul sito espero.it per scoprire i corsi sui prodotti adobe apple maxxon buona giornata